Sono previsti importanti interventi sulle tratte ferrate che attraversano le stazioni ferroviarie di Eboli, Baragiano e Bellamuro, sulla linea Battipaglia Potenza. Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo Ferrovie dello Stato, comunica infatti che dal prossimo 12 giugno al 10 settembre, quindi per circa tre mesi, eseguirà una serie di lavori che consentiranno di innalzare gli standard prestazionali dell'infrastruttura ferroviaria. In particolare, la stazione di Bellamuro, spiega una nota di RFI, sarà resa più accessibile grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di sottopassi, di percorsi tattili e l'innazzamento dei marciapiedi, secondo gli standard europei. Ma per consentire la piena operatività dei cantieri nelle tratte interessate dei lavori, la circolazione ferroviaria resterà interrotta. Sono quindi in programma modifiche alla circolazione dei treni regionali e della lunga percorrenza, con sopprezioni, limitazioni e autobus sostitutivi. Il dettaglio dei provvedimenti è disponibile nelle stazioni, presso il personale di assistenza e su tutti i canali informativi e di vendita del gruppo Ferrovie dello Stato. Intanto, sulla linea Metapunto Potenza, rimane sospesa la circolazione ferroviaria, già interrotta dal pomeriggio del 2 giugno, a causa di un alluvione che ha interessato l'area compresa tra Campomaggiore e Salandra. Le squadre tecniche di reti ferroviarie italiane, intervenute per ripristinare la tratta in seguito alle abbondanti piogge dei giorni scorsi, hanno riscontrato nei pressi di vaglio e nel potentino danni ben maggiori rispetto a quelli ipotizzati in una prima analisi. L'interruzione quindi proseguirà e senza soluzione di continuità fino al 15 luglio, per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione che erano già stati programmati a partire dal 12 giugno. Gli interventi riguarderanno il rifacimento di tre ponti fra Salandra e Ferrantina e di altri tre fra Ferrandina e Metapunto.